Per 30 secondi ho pensato che è finita e poi ho detto che questa è la prova, adesso sono 15 minuti e voglio vedere come va a finire. Ho detto la verità, avevamo paura, ma credo tutto lo stadio che si vuole, ho sentito molto lì in un secondo tutto lo stadio, sperare, credo che nella confusione ci fischiassero il pallo e non lasciano il gol. Quindi è stato un momento di grande sconforto, però questa è una squadra rigenerata e quindi credo che la vittoria valga ancora di più. A proposito di squadra rigenerata, parlo dal punto di vista morale, però anche dal punto di vista della grinta, è cambiare un po' a meno. La grinta è sicuramente un grande frutto della determinazione del nostro mister, perché voi lo sappiate meglio di me.